Capitolo 25 Conosco il ladro di calici Grover portò le ciambelle di moci. Punti bonus per G-Man. Ci fermammo sotto il grande arco bianco all'entrata di Washington Square Park a sgranocchiare la nostra colazione zuccherosa e a scrutare i dintorni. Non ero mai stato al parco così presto. Il sole era appena sorto e diffondeva una luce rosata per le strade, inondando le facciate di mattoni degli edifici che attorniavano la piazza. Davanti a noi si estendeva il piazzale principale, un gigantesco cerchio di pietra grigia che si sviluppava a raggera dalla fontana al centro. Ad Annabeth il disegno ricordava una meridiana o una ruota. A me, che sono new yorkese di nascita, sembrava un enorme tombino. La fontana era spenta. D'estate creava una grande piscina poco profonda per i bambini, ma in quel momento la vasca era asciutta. Immaginai che mi guardasse pensando «Oh, fantastico, ecco Percy Jackson, adesso dovrò esplodere o affogare un mostro o qualcosa del genere». Come credo di aver già accennato, gli impianti idrici tendono a non apprezzarmi granché. In giro non c'era molta gente. Lungo un sentiero una signora portava a spasso il cane. Qualche pendolare attraversava in fretta il piazzale. Un paio di vecchietti giocava a scacchi a uno dei tavoli sotto gli olmi. Quel posto era deserto come non capita mai a Manhattan. «Pronti?» domandò Grover. Voleva risultare coraggioso e deciso, ma la sua immagine era un tantino compromessa dagli schizzi verdi di maccia sul pizzetto. «Andiamo», dissi. Avevo mangiato l'ultima ciambella Cookie Monster, ovviamente il gusto migliore, visto che era azzurro fosforescente, quindi non rimaneva altro che trovare Gary. Annabeth incartò l'avanzo del suo mochi ube viola e lo infilò nello zaino, poi ci passò i fazzolettini di carta e l'unguento al mentolo. «Non è così che fanno i poliziotti prima di esaminare i cadaveri?» domandò Grover tappandosi le narici. «Non facciamo questi paragoni?» suggerì Annabeth. «Niente cadaveri oggi, ok?» «Ok», risposi, che fu l'unica cosa che riuscii a dire con i fazzolettini di carta e infilati nel naso. Gli occhi mi lacrimavano per via del mentolo. La gola mi bruciava come se un koala mi avesse fatto la respirazione bocca a bocca, ma supponevo che fosse sempre meglio che finire in coma da nettare. «Ci siamo!» Annabeth tirò fuori la boccetta luminosa e ne svitò il tappo. La inclinò appena, facendone stillare tre goccioline dorate. Invece di cadere, le gocce furono sollevate dal vento e fluttuarono per aria come bolle di sapone, ognuna trasportata in una direzione diversa. «Così è inutile», osservò Annabeth. «Ci dividiamo?» «È sempre una pessima idea», commentai. E così ci separammo. Non ero troppo preoccupato di perderli di vista, perché avrebbero potuto attraversare metà parco e rimanere ancora dentro la mia visuale. Annabeth seguì la sua goccia di nettare lungo il piazzale principale in direzione dei tavolini da scacchi. La bolla di Grover lo portò in mezzo agli alberi. La mia procedeva vacillante verso l'area giochi. Superai un passante che si affrettava con un caffè in mano e scantonò, come fai quando vedi un ragazzino strano con dei fazzoletti di carta che gli penzolano dal naso. La donna non notò il nettare scintillante e, per fortuna, non cadde neanche in coma. Forse il profumo non aveva effetto sui comuni mortali. Mentre seguivo la mia piccola sfera saltellante, mi tornò in mente quello che Grover aveva detto sugli spiriti della natura che erano fuggiti dal parco. Sembrava un luogo davvero abbandonato. Niente scoiattoli, niente ratti e nemmeno piccioni. Perfino gli alberi sembravano troppo silenziosi e, di norma, non è una cosa che noti a meno che non hai frequentato le driadi per un po'. Ci si abitua alla loro presenza consolante, come qualcuno che ti canticchia una ninna nanna all'orecchio. Quando se ne vanno ne senti la mancanza. La ghiaia mi scricchiolava sotto i piedi, la ciambella mi si agitava nello stomaco. Arrivato al confine del parco giochi, mi resi conto di come tutto fosse diventato tranquillo. Nessuna macchina passava per strada, la brezza era calata, le chiome degli alberi si stendevano immobili sopra di me, come lastre di ghiaccio verde. La bolla di nettare si spostò verso una struttura ricreativa. Fluttuò lungo le catene da arrampicata fino alla cima del fortino in miniatura, poi prese fuoco all'improvviso. Beh, probabilmente era normale. Mi lanciai un'occhiata alle spalle in direzione dei miei amici. Grover si era fermato accanto a un grosso olmo, teneva un orecchio premuto sul tronco come se stesse ascoltando delle voci. La gocciolina di nettare era svanita. Una cinquantina di metri alla sua sinistra, Annabeth se ne stava ferma davanti al primo tavolino da scacchi a seguire una partita. Chini sulla scacchiera, i due vecchi guardavano in cagnesco i pezzi, ma nessuno di loro muoveva un muscolo. Anche la bolla luminosa di Annabeth era scomparsa. Qualcosa non tornava. Avrei voluto urlare e chiamarla, spezzare qualunque strana trance in cui fosse caduta, ma la mia voce non collaborava. Quel silenzio carico di tensione mi impauriva, impedendomi di gridare o attirare l'attenzione. Era come se qualcosa stesse ricablando il mio cervello, modificando il modo in cui percepivo il tempo. L'ultima volta che avevo avuto quella sensazione, avevo dodici anni, ero sulla spiaggia di Santa Monica ed ero stato per la prima volta testimone del potere di Crono. «È simile, sì», disse una voce alle mie spalle. Mi voltai, feci per prendere la mia penna spada, ma mi pareva di muovermi nella gelatina. In piedi sulla struttura da arrampicata c'era un vecchio, o meglio, quello che sarebbe potuto essere un vecchio se fosse nato vecchio e avesse vissuto altre mille anni. Era basso come un bambino di prima elementare, la schiena curva come un amo. La pelle gli pendeva dalle ossa incascanti pieghe marroni come tende mangiate dalle tarme. Indossava solo un perizoma che lasciava in bella vista le esili gambe storte, i piedi nodosi e la pancia incavata. La testa mi ricordava un nuovo sodo lasciato a marcire per una settimana. E la faccia? Il naso carnoso era attraversato da una rete di capillari rossi, il colore più vivace di tutto il corpo. Gli occhi erano lattiginosi per via delle cataratte. La bocca era infossata, quasi lo avessero colpito sui denti con un tubo di metallo. Scatta una foto, bofonchiò. Durerà di più. Tentai di parlare. Era come se l'aria gelatinosa mi rivestisse i polmoni, rendendomi difficile respirare. Mi tolsi i tappi dal naso per non soffocare. Che vuol dire, gracchiai. Il vecchio straluno gli occhi. Voglio dire che le foto durano di più dei... non questo, cosa intendevi con... è simile. Il mio potere, rispose, è simile al modo in cui Crono dilata il tempo. Come facevi a... sapere quello che stavi pensando? Ragazzo, quando arrivi alla mia età, non ti sorprende più niente. E poi so chi sei, Percy Jackson. Ti ho tenuto d'occhio. Mi si drizzarono i peli sulla nuca. Un vecchio con indosso un pannolone mi teneva d'occhio. Per nulla inquietante. Immagino che tu sia Gary, giusto? O Geras, se preferisci. Sollevò una mano avvizzita per impedirmi di fare altre domande. E sì, sono un dio. Ti darò un indizio di che cosa. Dal mio nome deriva la parola. Geriatrico. Mi frullò per la testa ogni genere di possibilità, tutte orrende. Mi trovavo al cospetto del dio dei prodotti per l'incontinenza degli adulti, delle sale da bingo, delle creme per dentiere, degli integratori di fibra, o forse solo del dio che urla ai ragazzini strani di sloggiare dal suo prato. Poi il mio cervello sconquassato riuscì a mettere insieme tutte quelle cose in una categoria più ampia. Oh, il dio della vecchiaia? Din, din, Gary sfoggiò le gengive sdentate. Adesso forse capisci perché ho rubato a ganime della coppa con cui si balocca allegramente. Tese la mano. In un lampo di luce, sul palmo, gli comparve fluttuando un recipiente di ceramica, ma sembrava più un disco volante che un calice. Era una ciotola larga e poco profonda, con due manici enormi. Ero più che sicuro che mia madre ne avesse una da insalata uguale. L'esterno brillava di scene nere e oro che raffiguravano le divinità a un banchetto, le sagome disegnate con fili di bronzo celeste. Era una raffinata opera in ceramica, ma ignoravo come si potesse mescere il nettare da lì. Il calice degli dèi, dissi. Avrei anche voluto aggiungere che ovviamente capivo perché Gary lo aveva rubato. Purtroppo non era vero. «Allora, visto che sei già immortale, la coppa ti farebbe ringiovanire?» domandai. «O il sogno della tua vita è sempre stato quello di servire da bere?» «Oh, che delusione!» Gary chiuse il pugno e il calice scomparve. «Forse avrei dovuto cominciare da Annabeth Chase. A quanto ne so, lei è in gamba!» Non riuscii ad arrabbiarmi. Se avessi cercato qualcuno capace di indovinare il mio diabolico piano in modo da risparmiarmi il monologo tipico del cattivo, avrei cominciato anch'io da Annabeth. D'altro canto... «Aspetta un attimo», dissi. «Tu ci hai separato con le gocce di nettare». Lanciai un'occhiata dalla parte opposta del parco. Annabeth stava ancora seguendo la partita di scacchi. Grover stava ancora ascoltando l'albero. Non sembrava che corressero un pericolo imminente, ma si muovevano al rallentatore, come mosche intrappolate nella linfa che si sta rapidamente indurendo e trasformando in ambra. «Che cosa ci stai facendo?» chiesi in tono perentorio. «Ci stai eliminando a uno a uno? Hai paura di affrontarci tutti insieme?» Gary sbuffò. «Potrei trasformarvi tutti e tre in polvere di tomba con uno schiocco delle dita. In circostanze normali lo farei, perché state tentando di rovinarmi il divertimento. Ma visto che Ganimede ha mandato Percy Jackson a cercarmi, beh, ho pensato che ti avrei dato una possibilità. Speravo che fra tutti i semidei tu potessi capire perché ho preso il calice. Se però non è così, posso disintegrarti adesso e passare ai tuoi amici. Forse loro se la caveranno meglio di te.» «No!» gridai. «Non solo perché non volevo diventare polvere, ma perché non potevo permettere che facesse del male ad Annabeth e Grover.» «Lo capisco perfettamente, sul serio.» Gary strinse gli occhi. «Non ti credo.» «Neanch'io credevo a me stesso. Maledetto vecchio scaltro.» Tentai di immaginare cosa avrebbe fatto Annabeth. Mi domandai cosa avrebbe fatto Grover. Poi, dal momento che il mio cervello funziona in modo strano, mi domandai cosa avrei fatto io nella situazione in cui mi trovavo. Qualcosa in quella massa di alghe cerebrali doveva essere scattato, o aver fatto cic-ciac, o almeno aver sciaguattato un po'. «Sei il dio della vecchiaia», dissi, «e la coppa rende immortali i mortali.» Gary fece un sorrisetto compiaciuto, invitandomi a proseguire con un cenno del capo. «Il calice impedisce alle persone di invecchiare», continuai. «E questo non ti piace.» «Non lo sopporto.» ringhiò Gary. «Giusto, perché le persone devono invecchiare», commentai. «Non venire promosse a divinità come...» pensai a Ganimede, giovane e bello com'era, che girava mesto per la mensa della scuola riempiendo i bicchieri degli studenti. «Vuoi umiliare Ganimede perché sia ad esempio? Hai pensato che io avrei capito perché in passato ho rifiutato l'immortalità.» Gary mi fece un piccolo inchino, mettendo in mostra le chiazze scure sul cranio. «Forse, dopo tutto, non sei un perfetto idiota.» «Grazie», dissi. «Il mio obiettivo per la settimana era non essere un perfetto idiota.» «Ganimede non doveva diventare un dio», proseguì Gary. «Qualsiasi oggetto che garantisca agli umani l'immortalità è odioso, è sbagliato. Siete tutti destinati ad avvizzire, morire e tornare polvere. È questo il vostro scopo.» «Evviva lo scopo! Tu sei stato il primo semidio dopo millenni a rifiutare l'immortalità», aggiunse Gary. «È una cosa che rispetto. Tu mi capisci.» «Ok, è stata una bella esperienza, abbiamo creato un bel legame», dissi. «Hai chiarito il tuo punto di vista. Posso riavere la coppa adesso?» Gary si accigliò. «Non puoi fare sul serio. Perché dovresti portare a compimento questa ridicola impresa? Vattene! Lascia che Ganimede venga punito. Lascia che gli dèi perdano il loro prezioso calice, così avranno uno strumento in meno per trasmettere ad altri la maledizione dell'immortalità.» «Lo farei assolutamente. Solo che ho bisogno di una lettera di presentazione per il college», risposi. «E l'ho promesso a Ganimede. E poi pensi davvero che sia lui quello da punire? Non è stato lui a chiedere di essere rapito da Zeus, giusto?» «Ma per favore!» esclamò Gary. «Credi che l'eterna giovinezza e l'immortalità lo rendano una vittima adesso. Voglio dire, l'hai visto? Hai nervi a pezzi.» Gary incrociò le braccia avvizzite. «Sono deluso, Percy Jackson. Se insisti nell'aiutare Ganimede, immagino di essermi sbagliato sul tuo conto. Ti ridurrò in polvere.» «Aspetta un attimo!» squitti. «A volte, quando mi trovo in imminente pericolo di morte, la mia voce sembra quella di Topolino. Senti, capisco perché sei arrabbiato, ma visto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la faccenda dei mortali che non devono essere dei, non c'è modo di trovare un accordo tra noi.» Gary mi osservò. Le macchie lattiginose nei suoi occhi si spostavano come nuvole su un pianeta alieno. «Forse...» il suo tono furbo mi fece pentire di averglielo chiesto. «E se ti vedessi la possibilità di vincere il calice, dovresti sentirti onorato, Percy Jackson. In tutta la storia dell'umanità, ho fatto questa proposta soltanto a un altro eroe.» «Ercole!» tirai a indovinare, perché la risposta è quasi sempre «Ercole!» Gary a noi. «Devi sconfiggermi in un incontro di wrestling. Se vinci tu, ti darò il calice. Se vinco io, tu...»